Musica Dopo i 40 anni la presbiopia impedisce a molte persone di vedere bene, da vicino e da lontano. Fino a ieri, quando non bastava più allungare le braccia, si ricorreva agli occhiali. Ora c'è Focus Progressives, la nuova lente a contatto che permette di vedere con chiarezza a qualsiasi distanza, senza più il fastidio degli occhiali. Per una visione chiara e naturale da vicino e da lontano, chiedi al tuo ottico Focus Progressives, la lente a contatto mensili e giornaliere per la correzione della presbiopia. C'è un sole luminoso e amico che splende, il sole di Orogel. Fa nascere e maturare, nel rispetto dell'ambiente, verdure belle, ricche di sapore. Orogel è l'azienda tutta italiana con certificazione di prodotto che ti offre tanta bontà in cucina. Come questi spinaci cubello, in comode porzioni, facili da usare. Il sole di Orogel, bontà naturale. Una mano? Beh sì, grazie. Dio! Beh, bel tè, dov'è? Eh, l'ha preso bel tè o? Perché? Perché è più buono o no? Bel tè, tè alla pesca e al limone in acqua minerale. Da una tradizione antica, un nuovo profumo in cucina. Ma, sui ravioli? E anche sul filetto. Sulle pregole, no? E assaggia. Ancora. Aceto balsamico di Modena, Punti. Le cipolline più belle hanno un cuore di peperlizia. Peperlizia, il contorno per ogni tuo piatto, caldo o freddo. Cipolline peperlizia, il contorno che ti vizia. C'è chi ha l'argento vivo addosso. E c'è Silver Care, che ha l'argento vivo in testa. A contatto con l'acqua, l'argento che ricopre la testina, sprigiona gli ogni attivi che abbattono la carica batterica. Silver Care, lo spazzolino antibatterico con l'argento vivo in testa. Felice? Basta, maiali italiani. Prendi quelli esteri. Costano meno. No! Beppe, mettici un po' di conservanti. No! Enzo, smettila di dosare il sale. Fregatene della dolcezza. No! No! Gigi, i coloranti ti riutano. No! No, no, ma che noiosoni questi del consorzio di Parma! Non dicono mai sì! No! Solo alla dolcezza naturale, diciamo sempre sì, il consorzio garantisce, quello dolce è il crudo di Parma. Ogni volta che volete la purezza assoluta, andate direttamente alla sua fonte. Acqua levissima, purissima lei, purissimi voi, altissima, purissima, levissima. Da dove arriva? Marsiglia. Apre la valigia. Guardi che io sono pulito. Lo vedremo. Altro da dichiarare. Chante Claire, la linea di prodotti al sapone di Marsiglia. Chante Claire, il gallo del pulito. Chante Claire, il gallo del pulito. Si dice che la vita...